Benvenuti amici miei, eccoci qua con un nuovo video sul nostro canale di Unbox Today, eccoci qua con un nuovissimo video dopo tanto tempo. Oggi faremo una piccola recensione unboxing sul playstation 4 camera, versione 2. Abbiamo qua la scatola, apriamola, vediamo cosa c'è dentro. Wow, abbiamo trovato un altro box. Si apre da qua, vediamo cosa c'è dentro. La prima cosa che esce sarà la camera, si, abbiamo qua la camera, mettiamola qua a fianco, poi abbiamo il supporto della telecamera, poi ultima cosa, abbiamo delle istruzioni come usare la camera e come montare il supporto, come si vede qua. Mettiamolo qua a parte, iniziamo a guardare il supporto, niente male, come qualità flessibile anche. Qua si vede il logo del PS4 joystick. vediamo la camera. Eccola qua, sottile, leggere, confronto con la mia mano, è piccola, riguarda quella vecchia versione 1, come qua vedete. Qua si monta, si può montare lo stand, in questo modo, mi sembra. Se no potete guardare l'istruzione a come montare la telecamera sullo stand. Eccoci qua ragazzi, questo è tutto, è un piccolo video sull'unboxing della nuova camera del PS4 versione 2, aspettateci in un altro video che sarà una recensione completa, come usarla, come montarla sul PS4. Grazie per aver stato con me, ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!